18 punti al giro di Boa per la futsal San Giovannese, tempo di primi bilanci in Serie B. Sabato inoltre la sfida alla capolista Olympia Regium con il match in diretta negli spazi social della divisione di calcio a 5 a dimostrazione dell'importanza dell'evento per la categoria. Una consapevolezza intanto da parte del presidente Serafini, ottenuta la salvezza per centrare playoff occorrerà qualche vittoria in più nel girone di ritorno. Alla fine abbiamo i punti che ci meritiamo, magari ci può essere qualche rammario su qualche partita delle ultime del mese di dicembre però alla fine penso che dobbiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto e magari cercare di fare meglio il girone di ritorno. Questo è quello che ho detto ai ragazzi, abbiamo detto alla squadra Anziano Antonio e sappiamo appunto che abbiamo le potenzialità per fare qualcosa di più e se riusciamo a farlo probabilmente ci teniamo playoff, questo è chiaro. Si riparte con l'Olimpia Regium, loro tanto fanno campionato a sé, cioè di fatto da perdere non c'è niente? No, assolutamente no. È una partita che l'uneosa dobbiamo provare a giocare con intelligenza perché è una squadra nettamente fuori categoria quindi se l'affronti a viso aperto ti puniscono come abbiamo poi alla fine fatto all'andata dove ce la siamo già alla pari però siamo usciti con un 8-1 che parla da sé quindi niente proviamoci perché è giusto provarci consapevole appunto della difficoltà dell'impegno però insomma penso sia una cosa importante anche il fatto di essere social match della divisione quindi è un ulteriore attestato di stima per la nostra società che insomma quest'anno si sta ritagliando il suo spazio e quindi vogliamo far bella figura anche per quello insomma.